Le imprese fornitrici di prodotti e servizi alla pubblica amministrazione, quelle che lo sono già e quelle che vorrebbero diventarlo, hanno l'obbligo di utilizzare il cosiddetto mercato elettronico della pubblica amministrazione e nello specifico un'apposita piattaforma. Detto così può sembrare un problema aggiuntivo per le imprese. Si tratta invece di una reale opportunità che semplifica le procedure, riduce i costi, favorisce una maggiore visibilità e la possibilità quindi di ampliare la clientela. Per spiegare come funziona il mercato elettronico della pubblica amministrazione, Confartigianato Vicenza ospita un incontro che si terrà lunedì 27 gennaio aperto a tutte le imprese interessate. Vladi Riva dell'area strategia di impresa e di mercato ci dà qualche anticipazione sull'argomento. Cos'è il mercato elettronico della pubblica amministrazione? È un portale, è una piattaforma informatica realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Consip, una società ad hoc creata appunto per gestire queste procedure informatizzate, che ha lo scopo di razionalizzare la spesa e l'amministrazione delle spese appunto della pubblica amministrazione. Come nasce e come si è evoluto? Il portale generato appunto dalla società Consip è nato per dare riscontro alle necessità di acquisto di beni in grandi lotti da parte della pubblica amministrazione, quindi per gli ospedali, per la sanità in primo luogo. Successivamente ha ampliato le proprie capacità a livello di strumento informatico e ad oggi rappresenta un'opportunità per i servizi che sono obbligatoriamente acquisiti dalla pubblica amministrazione attraverso il portale. Per le imprese cosa significa questo? Per le imprese significa una nuova opportunità di utilizzare questo strumento e anche l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di rivolgersi per esempio a imprese che lavorano nella manutenzione di impianti attraverso lo strumento del portale, piuttosto che alle imprese che operano nella manutenzione e pulizia del verde sempre usando la formula informatica. Tutti questi temi saranno illustrati il 27 gennaio? Esattamente, durante il convegno in cui parteciperanno i funzionari di Consip, spiegheranno il funzionamento della piattaforma, inoltre spiegheranno le modalità operative con cui la pubblica amministrazione si rivolge alle imprese.